Musica Tutto è pronto per il FIA High Climb Master, la grande rassegna automobilistica di velocità in salita per la prima volta in Italia, la sua terza edizione e per questa prima volta è stata scelta la Gola del Bottaccione, l'Umbria, Gubbio, come teatro di una manifestazione che è una sfida tra i migliori piloti europei della velocità in salita, davvero un master in senso anche tennistico se vogliamo tra i numeri uno di ogni paese. Ci saranno ovviamente quelli italiani che corrono per tenere a casa in questa edizione italiana il titolo a squadre, ma ci saranno anche i migliori piloti europei, 20 nazioni presenti e una città che sta accogliendo questa Kermess nel migliore dei modi, offrendo ovviamente il suo impatto scenografico, che si sposa anche con il grande evento automobilistico, come già in queste ore si può apprezzare lungo le loggie dei tiratoi, con le tante bagniere dei paesi partecipanti, con il palco che viene allestito, iniziato da questa mattina, nella centralissima piazza 40 Martiri, dove si svolgeranno le serate musicali di venerdì e sabato, ma soprattutto le premiazioni di domenica pomeriggio. I momenti clou saranno certamente quelli delle gare, ma prima ancora sabato alle 17.30, dalle 17.30 in poi Piazza Grande si animerà con l'apertura ufficiale in stile olimpico di questa rassegna, un corteo che da piazza 40 Martiri salirà fino alla piazza Pensile, dove saranno presentati uno ad uno i piloti protagonisti. E poi ovviamente la gara domenica in Tremascio a partire dalle 9 senza riapertura del percorso, il percorso è quello tradizionale della Gubbio Madonna della Cima che ha già assaggiato nell'agosto scorso il Trofeo Fagioli 2018. Insomma un grande evento automobilistico che stasera vi presentiamo a cominciare dalla conferenza stampa che si è svolta proprio oggi a Palazzo Pretorio. Per noi c'era Giacomo Branco, gli lasciamo la linea con le interviste ai tanti protagonisti di questa Kermess. Presentazione in comune per il FIA Master Il Climb, l'Olimpiade delle Cronoscalate che caratterizzerà il fine settimana a Gubbio. Un evento di portata per l'appunto europea internazionale con ben 20 paesi a rappresentare proprio la manifestazione, 22 team tra cui quello italiano che punterà alla medaglia d'oro senza mezzi termini e un'organizzazione voluta dal CECA di prima grandezza. Andiamo a sentire le parole dei protagonisti. Il FIA Il Climb di Gubbio pronto a partire. Siamo con l'assessore regionale Giuseppe Chianella, un vanto per Gubbio ma per l'Umbria intera. Assolutamente sì, è un'opportunità per Gubbio e un'opportunità per l'Umbria. Noi ringraziamo tutti gli organizzatori, la CECA e tutte le associazioni che hanno partecipato all'organizzazione di questo evento. Gubbio ovviamente è una location di tutto rispetto particolare ovviamente che coniuga storia, ambiente e sport. In questo caso uno sport particolare ma le diverse manifestazioni che si susseguono nei quattro giorni propongono riflessioni diverse compresa come dicevo prima la sicurezza stradale. Quindi 20-22 nazioni che vengono a Gubbio, un'iniziativa che dal punto di vista turistico è importante e ovviamente come dicevo prima non solo per Gubbio ma per tutta l'Umbria. Il FIA Il Climb di Gubbio pronto a partire. Siamo con il capitano, lo possiamo definire così, con CT che dir si voglia, del team Italia. Fiorenzo Dalmeri pronti a partire per questa tre giorni di grande spettacolo. Con che ambizioni? Le ambizioni sono sicuramente alte perché voi sapete che la specialità delle salite è nell'automobilismo una delle specialità che vede tantissimi piloti in Italia e tra le altre cose abbiamo i migliori piloti a livello europeo. Quindi le attese sono altissime. Attesi altissime, 38 saranno i piloti italiani, 4 diciamo i top driver pronti per sfidarsi nella Nation Cup, quindi anche grande spettacolo fu i tornanti del Bottaccione. Certo, grandi spettacoli ma sono tutti 38 i piloti della squadra italiana che gareggeranno per una medaglia, una medaglia d'oro o una medaglia d'argento o una medaglia di bronzo. Insomma, e poi c'è la classifica per nazioni che vede un conteggio non semplice calcolato sui tempi di 4 dei 38 piloti. Però la nazionale, la squadra, ci tengo a dire, è formata da 38 piloti italiani. Ruggero Campi, presidente ACI Perugia, dopo il Fagioli e dal treno del Fagioli si arriva a questo Master europeo. Un'occasione importante per Gubbio, per l'Umbria, per l'Italia perché è la prima volta che capita che tale evento arrivi qui in Italia. Le sue sensazioni e i suoi auspici per queste tre giorni? Io direi più che le sensazioni una grande emozione perché avere una manifestazione di questo tipo in Umbria, prima che in Italia e ha questa valenza nazionale e internazionale è un motivo di grande orgoglio che mi stimola tante cose. La prima cosa che mi stimola è prendere atto che c'è un organizzatore a Gubbio, appunto il CECA che è in grado di fare questi eventi. E poi c'è una città, una città bellissima che accoglie la manifestazione motoristica con la stessa passione che hanno i piloti. Quindi abbiamo un pochino tutto e io spero che sarà molto dura toglierci questa manifestazione perché si potrebbe anche ripetere negli anni, nel 2019, perché non rifarla qui a Gubbio. Comunque restiamo con i piedi per terra e guardiamo questa del 2018. Sarà straordinaria, il commissario tecnico è bravissimo, i piloti ugualmente e poi abbiamo il Ronaldo della Gubbio, Madonna della Cima che ci farà sperare che quella medaglia d'oro prenderà posto sul suo collo. Noi tiferemo tutti, il sindaco Sterati ho sentito che si è messo in mezzo ai tifosi e io ovviamente sono con loro. Che vinca è il migliore e che sia italiano naturalmente. Siamo con colui che è stato definito il Ronaldo del motorsport, Simone Fagioli che qui a Gubbio è di casa per il trofeo quasi omonimo, il Fagioli che ha vinto innumerevoli volte. Torni per questo Master europeo partendo da domani da un'iniziativa singolare e suggestiva che ti verrà protagonista. Ce la vuoi spiegare? Sì, è un'iniziativa organizzata da Pirelli dove ci saranno i principali giornalisti delle testate di tutta Europa e sairanno a mio fianco, ci saranno anche altri personaggi, si spera anche il sindaco di Gubbio, per fare metà percorso di Gubbio e Madonna della Cima a fianco e a bordo della vettura usata quest'anno in Colorado, la Paispeak, che è una norma da 600 kg con 650 cavalli. Tornando invece alla gara, per te tonare a Gubbio credo sia una cosa in più rispetto già a sfidare gli altri campioni, cosa ti aspetti da questi altri giorni? Per me tornare a Gubbio è speciale, infatti sono anche abbastanza in tensione perché è una gara che ci tengo tanto, so che quest'anno sarà difficile perché c'è Merli che ha un gran passo, una grande vettura, sta andando fortissimo, ce la metterò tutta per portare la vittoria a casa, c'è tanti paesi, 20 paesi del mondo che partecipano a questa gara, gli inglesi sono velocissimi, hanno macchine performantissime, motori da Formula 1, quindi penso che sia un evento bellissimo, incredibile, sono molto felice che venga fatto in Italia e specialmente a Gubbio perché devono vedere da tutta Europa, da tutto il mondo cos'è Gubbio e quali sono le nostre gare e sono orgoglioso che venga fatto qua proprio per mostrare a tutti com'è bella l'Italia. Tutto pronto per il Master Europeo FIA, Sindaco di Gubbio Filippo Stirati, ci siamo, si partirà domani con le verifiche, sabato le prove, domenica la gara, un appuntamento che oltre a rappresentare Gubbio in Europa, credo che sia un vanto anche per l'amministrazione comunale e credo per tutta la città. Assolutamente sì, per noi veramente un motivo di orgoglio, di grande onore, mi fa molto piacere che la città abbia acquisito un evento internazionale con 20 nazioni estere più ovviamente la nazionale italiana, grande merito naturalmente al Comitato Eugubino delle Corse Automobilistiche, non ci stancheremo mai di ripeterlo, ormai abbiamo un gruppo nutrito, entusiasta, appassionato di volontari che però nel tempo hanno costruito proprio una professionalità, una competenza, non è più soltanto diciamo così buona volontà. E al tempo stesso credo che oltre al grande riconoscimento che noi abbiamo avuto anche per la pluridecennale storia del Trofeo Fagioli, questo appuntamento promuove tantissimo la città in Italia e nel mondo, è un elemento anche di grande valorizzazione del nostro territorio, della Gula del Bottaccione, del nostro centro storico e direi della città nella sua interezza. E anche dal punto di vista della promozione turistica sicuramente questo è un appuntamento che alza tantissimi numeri delle presenze e degli arrivi e come dire fa anche economia oltre che immagine. Quindi non possiamo che reputarci soddisfatti e raccogliere questa ulteriore sfida anche dal punto di vista della cultura e dell'organizzazione dell'accoglienza per fare ancora meglio per il futuro e per prepararci a tanti altri appuntamenti significativi. Vincent Carot, supervisore per le crono scalate del FIA, a Gubbio per questo evento, innanzitutto le prime suggestioni per quanto riguarda la città, visto che la corsa comincerà breve. Le prime impressioni della prima volta, la città è magnifica, molti dei piloti non sono mai stati in Italia e qui, quindi sarà un spettacolo incredibile. Forse i piloti italiani già conoscono Gubbio, ma sicuramente sarà un evento straordinario. 20 paesi, 22 team, 175 piloti, possiamo dire che è già un'edizione record per quanto riguarda questa competizione della FIA? Sicuramente è un'edizione dei record. I piloti probabilmente si parlano a vicenda, si influenzano a vicenda, quindi avranno parlato bene di Gubbio. Gubbio si presta benissimo a un evento del genere e quindi sì, sarà una manifestazione incredibile. Tutto pronto per partire con il FIA Il Climb Master di Gubbio, siamo con Luca Uccellani, presidente Ceca, credo un lavoro davvero impegnativo in questi mesi per portare tale manifestazione nella città dei Cieri, però credo alla fine anche grande soddisfazione. Poi ci saranno questi tre giorni, però credo la soddisfazione sia già grande. Sì, sicuramente, guarda, siamo pronti ad accogliere veramente il meglio delle cronoscalate europee, oserei dire. Abbiamo un parterre di piloti, di team incredibili, avremo macchine spettacolari proprio, veramente da non perdere. Per questo non finiremo mai di ringraziare la FIA che ci ha dato l'opportunità di organizzare questa manifestazione, questo evento, è l'ACI che ci ha supportato, ci sta supportando e tutte le realtà, gli enti locali naturalmente, partendo dal comune, la provincia, la regione, tutte le associazioni locali, innumerevoli volontari per i quali veramente è stato un lavoro difficilissimo, difficilissimo, molto impegnativo e duro. Però questo qua naturalmente ci fa molto, molto, molto onore, riuscire a organizzare questo evento che è il top per questi tre giorni. Quest'Olimpiade dei motori, di fatto, per il CECA rappresenta un punto di arrivo per il lavoro fatto negli anni, oppure vi dà ulteriore slancio, magari per qualcosa di più ipotizzo io per portare anche il Fagioli a un livello europeo? Guarda, siamo veramente orgogliosi di quello che abbiamo raggiunto. Sicuramente riuscire a organizzare questo evento è stato il coronamento di un sogno, tra virgolette, perché fare una cosa del genere è stata una cosa eccezionale. Però significa che i sforzi che abbiamo fatto e che abbiamo messo in campo con il trofeo ci hanno portato a buon frutto. Significa che abbiamo lavorato bene, stiamo lavorando bene e sicuramente non sarà un punto di arrivo, anzi, deve essere sempre un punto di partenza per nuove realtà, per vedere quello che sarà il futuro, sul quale non disdegneremo mai di poter fare una prova di campionato europeo. In arrivo a Gubbio le emozioni del FIA Master Hill, evento planetario, lo possiamo dire, che riguarda il motorsport che farà Capolino qui a Gubbio. Siamo con Fabrizio Bondacci, direttore di gara internazionale. Credo che sia una vera e propria occasione per Gubbio, per tutti gli amanti del motorsport, ma in generale, credo, per chiunque voglia appassionarsi a queste tre giorni. Sì, direi che siamo arrivati al capolinea di una serie di mesi di lavoro. Tra l'altro direi un grazie particolare a tutte quelle persone che si sono accostate alla nostra organizzazione ormai consolidata, ma com'è bello vedere che questo evento non è del Comitato Eguvino Corsi Automobilistiche, ma è della città di Gubbio. Sì, siamo arrivati, già da ieri ci sono dei movimenti, oggi stanno arrivando già delle persone, degli ufficiali di gara e quanti sono chiamati alla gestione di questo evento da parte della Federazione Internazionale. Diciamo che c'è stato un restyling anche del Bottaccione, perché grazie a quello che ho detto poco fa, alla città che vive insieme con noi questa iniziativa e tutte le persone che si sono avvicinate, c'è una faccia nuova del Bottaccione, ma soprattutto già vedere nella zona della partenza delle tribune, già vedere tutto uno sfalcio, una pulizia lungo i tornanti, vedere gente che si ferma, vi devo dare una mano. È la città che se la sente sua e sicuramente questo è un evento dove non tornerà mai più. Tra l'altro è un extra regolamento, perché inizialmente erano 160 vetture, oggi siamo arrivati a 175, proprio per l'intensità di iscrizioni che sono arrivate da parte di tutte le nazioni. Sicuramente il Trofeo Fagioli ha portato un segno importante anche a livello internazionale e non perché già pensare a un Trofeo Fagioli internazionale, già con i piloti che stanno arrivando e sicuramente già assaporano quello che è un Trofeo Fagioli magari oltre le Alpi. Come è stato per te partire e come è stato vedere evolversi questa carriera che adesso si è iniziata tutta da una grande passione. Sì, la grande passione che lega ormai da sempre nel motosport, ma soprattutto da piccolo con i miei genitori quando si andava su al cimitero della Cima con la merenda, la colazione, il pranzo, il sacco, che ci si vedeva tutte queste belle vetture. Diciamo, sono stato un po' da trainer anche per il Trofeo Fagioli, portare un po' l'esperienza che si vive in pista nei grandi eventi e ecco che con il gruppo di lavoro che abbiamo, con i fantastici ragazzi che compongono il comitato Eugubino Corsa Automobilistiche, siamo riusciti a trasmettere quella sensazione, quella sicurezza anche nel gestire l'evento. E questo sicuramente per me, vivendo quotidianamente nelle gare di alto livello, di uno spessore quasi impensabile quando ero un giovane, mi fa solo che piacere portare a Gubbio e gestire a Gubbio insieme con gli Eugubini, con i miei amici, questi eventi. Ma non è soltanto la gara a catalizzare l'attenzione in questo lungo fine settimana dedicato al FIA Master, al campionato europeo della velocità in salita di scena a Gubbio, perché si è parlato anche di sicurezza stradale. Lo si è fatto proprio come primo atto di questo lungo weekend, un convegno che ha visto la partecipazione organizzativa del Comune del Rotary Club e che ha visto come testimonial di eccezione due campioni assoluti della velocità in salita, Simone Fagioli, Ivan Pezzolla, il primo soprannominato il CR7 del Motorsport, Pezzolla che è ovviamente anche gli campione italiano, seppur giovanissimo. A vent'anni hanno parlato ai ragazzi, ai ragazzi delle scuole, su quale sia la differenza tra il correre per le competizioni e l'utilizzare un'auto o anche un semplice scooter, tutti i giorni. Se ne è parlato, come detto, quest'oggi a Palazzo Pretorio, allora vediamo il servizio, proprio con le parole dei protagonisti, tra cui anche Fabrizio Fondacci, direttore di gare, Eugubino, ma che ha conosciuto e sta conoscendo una grande carriera, direttore anche del Gran Premio di Monza, Gran Premio d'Italia di Formula 1, e sicuramente i suoi buoni uffici sono stati preziosi per portare a Gubbio il primo appuntamento di questo FIA Masters 2018 in Italia. Il FIA Il Climb Masters entrerà nel vivo da domani, venerdì 12 al 14 ottobre a Gubbio, il grande evento internazionale promosso dalla Federazione Internazionale, da ACI Sport, dal Comitato Gubbino Corse Automobilistiche, dal comune di Gubbio che metterà confronto nel weekend i campioni europei delle crono scalate, in rappresentanza di 22 nazioni e ben 20 squadre nazionali che si contenderanno la Nation Cup. È stato preceduto nella sala trecentesca del comune in Piazza Grande da un incontro con le scuole, incentrato sulla sicurezza stradale e il rispetto delle regole alla guida. Il CECA ha voluto organizzare insieme al Rotary Club l'incontro sulla sicurezza stradale, pensato per i giovani, coinvolgendo gli studenti dell'Istituto Istruzione Superiore Cassata Gattapone. Presenti il sindaco Stirati e l'assessore Gabriele Damiani, che nel ringraziare le scuole, gli organizzatori del Trofeo Fagioli, i Rotary ed i piloti hanno espresso soddisfazione. Damiani in particolare ha precisato un appuntamento intelligente per riflettere sulla sicurezza, una strategia vincente per far leva sull'etica, il rispetto delle regole e il giusto comportamento sono la dimostrazione della considerazione degli altri per mantenere una società sana. Tra le principali prerogative della FIA Federazione Internazionale dell'Automobile c'è proprio la sicurezza stradale, come testimonia FIA Action for Road Safety, campagna mondiale alla quale aderiscono i più famosi campioni del motorsport. Noi innanzitutto ringraziamo il CECA perché sono loro i promotori e il motore di tutta l'organizzazione. Il Rotary è impegnato, come sempre, nel divulgare, nel promuovere degli esempi di vivere bene, di vivere sano e questo di rispetto delle regole. E in questo caso noi siamo qua per parlare di rispetto delle regole nella strada, di rispetto delle regole nella strada che poi devono riflettersi anche ad un rispetto delle regole nella vita. Non è il primo anno che collaboriamo con il CECA e abbiamo sempre molto piacere di portare avanti queste collaborazioni. È stata una bella iniziativa di portare la sicurezza nelle scuole, ma soprattutto da quali persone portano la sicurezza. È il messaggio della sicurezza. Il messaggio della sicurezza da un 12 volte campione europeo delle gare in salita e tra l'altro l'iniziativa più importante di AC Italia è stata quella di confrontare i ragazzi insieme a un ragazzo che ha la stessa età, quindi un Ivan Pezzolla ventenne che sicuramente trasmette a loro le stesse emozioni e la stessa capacità nell'intraprendere la sicurezza durante la guida e così come le regole nelle gare. Oggi è una giornata dove si parla dei ragazzi di un istituto superiore di sicurezza stradale. Detto da un pilota, campione italiano, qual è la raccomandazione? Innanzitutto felicissimo di poter essere qui a Gubbio a raccontare la mia esperienza e quindi metterla a disposizione di questi ragazzi così giovani. Sono stato giovane anch'io quindi mi rendo conto di quanto possa essere utile mettere a disposizione l'esperienza di chi ne ha fatta in questo caso. La sicurezza, ripeto, c'è un perfetto parallelismo tra la sicurezza stradale e la sicurezza in pista a partire dal rispetto delle regole. Come sappiamo in pista abbiamo delle bandiere, c'è il direttore di gara che ci indica esattamente quello che dobbiamo fare. Alla stessa maniera per strada abbiamo la segnaletica che va rispettata, la velocità ovviamente e la cosa che cerco sempre di comunicare ai ragazzi è quanto sia importante conoscere i limiti della strada perché io che conosco i limiti della pista posso dire che su strada abbiamo dei limiti fisici in cui andiamo incontro, ossia le vetture stradali certamente non sono al passo con le vetture da competizione quindi è impensabile per me poter fare le stesse cose che faccio su strada, su pista, in questo caso su strada. C'è un limite fisico dettato dai pneumatici perché le vetture sono studiate per un utilizzo stradale senza contare che in pista sappiamo di poter correre con altri piloti che sono a conoscenza di quelli che sono i pericoli eventuali eppure il pericolo e l'ostacolo è sempre dietro l'angolo e non sempre prevedibile. Su strada andiamo incontro a pericoli e ostacoli improvvisi che noi non potremmo mai considerare quindi diventa fondamentale prestare sempre attenzione rispettare i limiti di velocità e perché no conoscere anche meglio i mezzi Conoscere i mezzi significa anche approcciarsi a dei corsi di guida perché li ritengo assolutamente fondamentali per poter capire effettivamente il limite fisico e il corso di guida ti permette anche di capire effettivamente un ostacolo improvviso e una situazione d'emergenza che potrebbe presentarsi su strada ovviamente sono situazioni che non potremmo simulare per strada altrimenti sarebbero pericolose però tramite i corsi che ACI organizza e che quindi io mi sento di promuovere e sponsorizzare permette proprio di conoscere il mezzo ed eventualmente anche tutti i pericoli e gli ostacoli che potremmo trovare per strada. Oggi si affronta il tema della sicurezza in strada con dei ragazzi che sono o neopatentati o lì vicino allora detto da un campione quanto è importante conoscere le regole della strada? È importantissimo, le regole della strada sono importanti come le regole nello sport, come le regole della competizione ci sono delle regole che vanno rispettate al 100% più che altro una cosa importante di oggi giorno sono le distrazioni non bisogna distrarsi al telefonino in macchina ma stare concentrati e guardare quello che si fa perché al giro per le strade siamo in tanti quindi rispettare le regole nel mondo di oggi è importantissimo Spesso si spinge, i ragazzi spingono sull'acceleratore ma insomma una strada comune non è una pista c'è una bella differenza? Ma su una strada comune se c'è dei limiti c'è un motivo è importante rispettarli, non siamo su una pista ci sono le piste apposta, gli autodromi per andare a sfogarsi, a divertirsi, magari prendere le licenze e cominciare a frequentare anche lo sport che faccio io nelle corse in macchina quindi sulla strada non ci si può permettere di superare i limiti di avere distrazioni perché in un attimo, in un decimo secondo può succedere delle cose gravissime Come cambierà il traffico? Come si svolgerà il programma di questo lungo fine settimana? Abbiamo cercato di raccontarlo in un servizio che spiegherà che accanto ovviamente a inevitabili disagi per chi frequenta il centro storico ci sarà però ovviamente l'altra faccia della medaglia e che faccia lo spettacolo della velocità in salita vediamo nel dettaglio che cosa cambia già a partire da oggi fino a domenica Sarà un fine settimana di straordinaria esposizione mediatica perché Gubbio diventerà la capitale europea della velocità in salita con la prima edizione organizzata in Italia del FIA Hill Climb Masters di scena dal 12 al 14 ottobre lungo lo storico tracciato della Gubbio Madonna della Cima Un grande evento internazionale che metterà a confronto i campioni europei delle crono scalate in rappresentanza di 22 nazioni e ben 20 squadre nazionali che si contenderanno la Nation Cup Gubbio al centro del mondo della velocità in salita e Gubbio meta di migliaia di forestieri che gremiranno la città e nei due giorni di prove e gare i tornanti della gola del Bottaccione L'anteprima già da giovedì 11 ottobre quando la sala trecentesca del comune alle 9.45 è in programma un incontro con le scuole promosso da Federazione Internazionale AC Sport, Ceca e Rotary Club Gubbio incentrato sulla sicurezza stradale e rispetto delle regole alla guida con testimoni all'eccezione Simone Fagioli pluricampione italiano e Ivan Pezzolla entrambi colonne del team azzurro in gara la città comincerà a prepararsi all'evento già da giovedì con l'allestimento del palco premiazione della FIA di fronte al monumento ai caduti tra le disposizioni del traffico fin da giovedì 11 anche per la giornata di venerdì 12 fino a lunedì 15 ottobre alle ore 14.15 sarà spostato nella zona della piscina comunale il terminal di bus per le scuole la giornata di venerdì vedrà lo svolgimento delle verifiche sportive e tecniche fin dalle 6 del mattino sarà allestito il paddock nell'area del Teatro Romano e nel parcheggio dell'Istituto Gattapone con conseguente chiusura al traffico di via del Teatro Romano e via Parruccini il vieto d'accesso da largo della Pentapoli verso il Teatro Romano parte del paddock sarà allestito anche in piazza 40 Martiri nel lato tra la farmacia comunale e la chiesa di San Francesco dove non potrà transitare da venerdì a domenica resterà invece aperto il transito lungo via Cavour per consentire l'accesso costante alla parte alta del centro di fronte all'edicola di piazza 40 Martiri sarà predisposto per due giorni il doppio senso di marcia delle vetture in entrata dalla rotatoria e un'uscita in via della Repubblica l'area vedrà anche la presenza di track food stand gastronomici per turisti scuderie ma anche per i tanti appassionati ogubini e forestieri che visiteranno il paddock per due ore circa dalle 10 alle 12 sarà chiusa al transito anche la statale del Bottaccione lungo il tratto dal bivio di Sant'Ubaldo che resterà accessibile fino alla Madonna della Cima sabato 13 sono poi in programma le due prove ufficiali con partenza alle 10 e chiusura del percorso dalle 9 nel pomeriggio lo spettacolo si sposta nella parte alta del centro storico si terranno la parata e la cerimonia di presentazione di piloti e nazionali un corteo aperto della P-Funking Band da piazza 40 Martiri risalirà fino a piazza Grande dove si svolgerà la presentazione ufficiale delle 20 squadre in Lizza con lo spettacolo degli sbandieratori di Gubbio e il saluto dei piloti che uno ad uno scenderanno dalla scalea infine domenica 14 ottobre le tre decisive salite di gara a partire dalle 9 senza riapertura del percorso che sarà chiusa alle 8 fino alla conclusione della gara la cerimonia di premiazione con la consegna delle medaglie d'oro d'argento e di bronzo per il podio individuale delle quattro categorie e per il podio della Nation Cup con le tre migliori nazionali classificate tra le 20 partecipanti si svolgerà in piazza 40 Martiri intorno alle 18 per chiudere un weekend davvero straordinario non solo per gli appassionati di velocità e in salita ma anche per la visibilità della città e del territorio su scala europea e prima di salutarci ovviamente diamo l'appuntamento agli sportivi agli eventi di questo weekend a partire da venerdì con le prove e le verifiche tecnico sportive nel paddock allestito nell'area del teatro romano ma anche in parte in piazza 40 Martiri sarà anche l'occasione per passeggiare andando a vedere da vicino i boli di protagonisti di questa rassegna automobilistica europea e conoscere magari da vicino anche alcuni dei protagonisti alla guida poi sabato le prove a cominciare dalle 10 con chiusura alle 9 del tracciato della Gubbio Madonna della Civa lungo la statale Gubbina tra Gubbio e Scheggia e domenica ovviamente la gara con le kermesse ovvero la presentazione ufficiale uno a uno dei piloti sabato alle 18 in piazza Grande con lo spettacolo degli sbaglieratori e poi domenica la premiazione che invece si svolgerà in piazza 40 Martiri a partire dalle 17 tutto questo per un FIA Master che davvero riserverà grandi emozioni che poi vi racconteremo ovviamente nei nostri appuntamenti informativi e in altri speciali la prossima settimana grazie e vi lasciamo al promo al bellissimo promo realizzato già da alcuni mesi a questa parte che preannuncia il grande evento di sabato e domenica sui tornanti della Gola del Bottaccione la FIA Hill Climb Masters è una celebrazione di tutto in la top flight di europea hill climbing è una speciale occasione dove champions di all'interno del contatto get to show off their machinery e skills due to the eclectic mix of cars the winners of which are awarded the coveted gold medals based on the fastest of their three runs of the day the drivers competing not only for individual honors but also national glories at the Masters it is not only the overall standings that matter but also the nation's cup the FIA Hill Climb Masters is now underway fantastic line as he comes past screaming past me already a 120.5 with his engine cover hanging off and acting as an airbrake that's remarkable Grentialia B a b a a b a a